Salvatore Settis Salvatore Settis Salvatore Settis è stato per 11 anni direttore della Normale, una delle più importanti istituzioni culturali d'Europa e quindi del mondo ed è ancora oggi uno degli intellettuali più ascoltati, più autorevoli del nostro Paese. Ricordare quello che lui ha fatto per l'ambiente, per l'arte, per la cultura della nostra regione è particolarmente importante. Salvatore Settis è nato a Rosarno, ha studiato al liceo classico Campanella di Reggio Calabria e si è sempre occupato di vicende artistiche, culturali e archeologiche della nostra regione. Averlo a Soverea Mannelli è un punto di riferimento importante e un'occasione significativa per riflettere su dove sta andando la cultura nel nostro Paese e su come la cultura può migliorare la democrazia in Italia. Grazie. 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 Grazie.